Spero fortuna, adesso la vedo bene, via, rifiuto e vado avanti. Disperazione, niente sarebbe il disastro. Allora? Sai cosa ti dico? Se non vinco niente, io vi dico una cosa stupenda. Sono venuta con la gioia, vado a casa con la gioia, però vi dico questo, conservate la pace, date la pace e avrete un mondo di pace. Giorgio, 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 mi puoi ricordare? Adesso la parola, Giorgio, mi puoi ricordare? Grazie!